Per qualche giorno sono stati ambasciatori dell'ONU nel Palazzo delle Nazioni Unite a New York 16 studenti liceali di Cittadella che al Palazzo di Vetro hanno potuto condividere e approfondire le tematiche diplomatiche e di economia internazionale. Un'iniziativa promossa anche dal Comune per dare l'opportunità ai giovani di avvicinarsi con un'esperienza sul campo alle tante problematiche che affliggono il nostro tempo.